Musica Tutto pronto per questa terza edizione della rievocazione storica del Giro delle Calabrie Siamo qui a Catanzaro da dove storicamente partiva questa gara negli anni 49 Una gara ideata dall'Automobile Club di Catanzaro Organizzata per 9 anni, fino agli anni 60 Abbiamo ripreso questa manifestazione rispettando soprattutto il percorso 770 km della nostra Calabria che si alterna tra mare, montagne, scenari meravigliosi Gente proveniente da tutta Italia Abbiamo equipaggi che vengono da Padova, da Bologna, da Firenze, da Benevento, da Palermo Quindi siamo molto contenti, la giornata è stupenda, questo sole che ci assiste Siamo felici, speriamo che vada tutto bene Abbiamo tre giorni di tour per tutta la nostra regione Speriamo bene soprattutto per i nostri amici che hanno fatto veramente tanti chilometri per partecipare a questa manifestazione Un grazie al Presidente della Repubblica che ci ha confermato la medaglia come era all'epoca Coppa Presidente della Repubblica Alla Regione Calabria, alle amministrazioni provinciali, alla nostra amministrazione provinciale di Catanzaro Alle amministrazioni comunali e soprattutto un grazie al nostro neosindaco appena eletto, Dottore Traversa Un grazie agli sponsor e a tutti quelli che hanno collaborato con noi per la riuscita di questa manifestazione Grazie a tutti e speriamo che siano tre giorni di divertimento, grazie